Benvenuto in scelta del prodotto. In questo video discutiamo del migliori guanti da cucina. Ho fatto questa lista sulla base della mia ricerca personale e opinione, e ho cercato di registrarlo in base al suo prezzo, qualità, durata e altro ancora. Se vuoi vedere il prezzo e saperne di più su questo prodotti, puoi che cut link qui sotto nella descrizione qui sotto. Al quinto posto, abbiamo la DEC guanti da forno. DEC utilizza un set di coprimani da cucina perfetti per chi ama usare la stufa, in quanto sono caratterizzati da dettagli in silicone antiscivolo. Quando si tratta di padelle calde, è infatti molto meglio scegliere un modello che garantisca una presa aziendale. Hanno misure speciali, determinano 18 x 28 cm, quindi si vestono grandi per quelli con piccole mani, anche se questo non è un problema per molte persone. Al numero 4, abbiamo GECOM guanti forno. Se presumi che ti piaccia un paio di coprimani in silicone per l'area cottura agli altri modelli forniti su internet, potresti piacerti quelli che abbiamo effettivamente scelto di mettere in cima alla nostra classifica. GECOM ha effettivamente sviluppato un oggetto in questo materiale, sicuramente senza composti dannosi per il benessere, come il BPA. L'interno rimane in cotone traspirante. Al terzo posto, abbiamo la 1 coppia guanti. Se stai cercando un prodotto che ti piace ma non sai ancora esattamente come scegliere un ottimo paio di coprimani della zona cucina, dai un'occhiata di nuovo alla nostra analisi di quelli commercializzati online. Un articolo semplice ma estremamente buono è quello di Grevi. Fatto per gli amanti felini, in quanto consiste in scritti che si collegano ai benefici del momento trascorso con i tuoi amici felini. I colori utilizzati sono il bianco e nero. Al numero 2, abbiamo il Marybee guanti. Le copertine per abbigliamento da cucina in gomma Marybee non possono mancare dai nostri consigli di acquisto, che di fatto consistono in numerosi strati per garantire la massima protezione alle tue mani. Il componente esterno è infatti in fibra di aramide, che si suggerisce toccando livelli di temperatura che raggiungono i 500 gradi. Lo strato centrale è costruito in gomma, mentre l'interno è realizzato in morbido cotone. Infine, il numero 1 nella nostra lista, abbiamo il guanti antitaglio. Tra le offerte più pratiche che abbiamo avuto la possibilità di esaminare c'è quella di Inno Beta, che fornisce i migliori guanti da zona cottura per chi comunemente deve maneggiare lame e anche coltelli. Il suo prodotto è realizzato con uno speciale prodotto antitarsio, che impedisce il passaggio e quindi protegge le mani dalle ferite. Il prezzo estremamente economico e la presenza di diverse dimensioni prontamente disponibili lo rendono uno degli articoli più venduti su internet. Come sempre, troverete tutti i link dei prodotti che abbiamo discusso in questo video giù nella descrizione qui sotto. Grazie per aver guardato il nostro video, si prega di come condividere questo video, e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per i video futuri.